Se ogni kill non ballo, il video finisce Ragazzi, vi ricordo che potete supportarmi andando all'interno dell'itemshop sul supporto a un creatore Inserite il codice creatore porto così come lo vedete scritto a schermo Accettate, da ora un acquisto che farete mi darà un piccolo supporto Grazie a tutti quelli che lo faranno Ok ragazzi, ci stiamo dirigendo verso gli agency per tentare la sfida di oggi Che se non ballo, ogni kill che faccio, il video finisce Siamo in duo con Meglia come noi lo eravamo da un po' tra l'altro Meglia ha delle pozze sopra di lui, cercherò di farglielo capire in qualche modo Ti prego Meglia, prendile, ce l'hai in testa Su, Meglia, mi fido di te, so che puoi farcela Allora, ho trovato solo cose inutili in realtà per ora Il fucile a pompa non lo preferisco questo qui, quindi ok Allora, Meglia non so che fine ha fatto Ah, sta semplicemente giù, ok, si sta facendo le pozze Quindi anche lui le ha trovate a posto Va bene E niente, via le due, dai Io intanto vado avanti Ok ragazzi, Meglia non può sentirmi, eh Quindi il fatto che io stia parlando da solo è assolutamente normale, tranquilli Lo faccio di solito Eh, attenzione Ok Allora, lì potrebbe starci della gente E infatti c'è Stiamo attenti ragazzi Perché c'è gente, non ho capito, sotto, sopra Non lo sto capendo La cosa mi inquieta e basta Meglia sta sparando? Non è Meglia che sta sparando, ok Stiamo attenti ragazzi La cosa è abbastanza inquietante C'è gente nei condotti Non capisco dove Ah, lì Ok, devo ballare Io ho premuto il pulsante ragazzi A breve dovrebbe iniziare a ballare Ok, ha ballato da sola Meglia, pozze Pozze, Meglia Meglia, dammi le pozze Meglia, le pozze Meglia, le pozze Prego Meglia, capisci che mi servono le pozze Meglia, Meglia 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 Meglia, le pozze Non credo che il tizio stia capendo Meglia, Meglia Le pozze Meglia Ok, c'è arrivato ragazzi Mamma mia Troppo forte ragazzi Bello pulito Ma perché non mi fa ballare velocemente? Io non capisco ragazzi Premo il pulsante e balla dopo dieci anni Giusto per rendermi Cioè, giusto per mettermi in situazioni complicate Poi quando Devo ballare velocemente Ok, questo se lancia una granata Ci elimina entrambi È così stupido? Uh, grande per Meglia Bella So clean Ah, balla anche Meglia Ok ragazzi Lui non deve ballare Ok Però vabbè È stato carino il fatto che l'abbia fatto La scala ce l'ha Meglia Non ho capito se l'ha presa Credo di sì Sinceramente Vabbè, andiamo Uh, era da solo Fatemi ballare Ah, io mi sono scocciato Questo ballo non funziona Non capisco perché Mi farà ballare? Un giorno? Ok Dopo tre ore mi fa ballare ragazzi Fortunatamente io attivo il comando subito Ah, vabbè Ok Questi tipi mi hanno veramente annoiato Però quel tipo ragazzi Aveva Il tipo che Uh, eh Perché sta Ah, ok Ancora quelli Il tipo che abbiamo eliminato Aveva Aveva l'arma Dove è finita la scheda? Scusate se aveva l'arma Ah, non lo so Dovremmo veramente andare a cercare Che noia, dai Riferisco alla scheda del bunker Sto cercando la scheda del bunker E non la trovo Perché Non l'ho trovata? Niente Ok ragazzi Ho trovato la scheda del bunker Stavo dicendo a Meglia Che non la trovavo in chat Perché appunto Non possiamo parlare tra di noi Mamma mia Panico Beh comunque Oh che noia Dai Lasciami stare Dai veramente È partito Mamma mia Pensavo non fosse meglio Questa cosa è negliosissima Beh comunque Allora dai Cerchiamo di lo dare in petta Perché prima abbiamo avuto Brutte sorprese Da aspettare Quindi Cerchiamo di fare una cosa veloce Mi servono le bozze Meglia Ok Ha capito ragazzi A posto Va bene Ci facciamo uno scuro a testa E poi andiamo Vediamo così Ok ragazzi Credo che abbiamo un po' di tutto Sia materiali che Roba Quindi possiamo andare Magari ci facciamo giusto qualche albero Qualcosa di materiale che ci manca Poi andiamo Dai Un'altra pozza grande Non so se Non so se Meglia Se la può portare Vediamo ragazzi Io Credo di sì Sì ok Se l'è potuta portare Fortunatamente Va bene Lì non hanno lutato Ok quindi ci prendiamo Le chest belle fresche Intanto continuo a prendere Un po' di legno Speriamo che pure Meglia Abbiamo attreati Nel caso poi Gli dividerò Ah ok Ok Mi ha potute portare Veramente un sacco di bozze Fortunatamente Tanto meglio così Va bene Allora ora Raggiungiamo Lazy Lake Con Meglia Vediamo se ci Troviamo altri nemici Sulla nostra strada Tanto la set ragazzi Si chiuderà tra un bel po' Quindi abbiamo tutto il tempo Per fare quello che vogliamo Almeno per ora Ok c'è gente ragazzi Però non ho capito dove Non riesco neanche a capire Perché mi metta lo spot male A 400 metri Se io l'ho messo vicino Però ok E sì ragazzi Però usciremo su quella gente Il prima possibile Non voglio Diciamo aspettare troppo tempo O ignorarla Perché comunque ce l'abbiamo alle spalle Vediamo Devo solo capire dove erano Non mi aveva notato Ok Devo noccarlo Cioè devo eliminarlo Ora ragazzi Mi conviene Ah il compagno Sta dietro Ok Devo ballare Devo ballare Devo ballare Credo che Megia Me l'abbia eliminato Non sono full health Perché? Sono fatti fatti tuoi No? Vuole eliminare Prima me E ci sta Eh Megia Però credo che questo sia meglio Pusciarci Lo senti a me Fugge via No no Megia Non dobbiamo farlo fuggire Ti prego Ti prego Megia Non so se Megia l'ha eliminato No Megia non l'ha eliminato Ok ci sta Vabbè Come avrebbe potuto Era difficile Ok Vediamo che fa Credo che sia sceso Per la cascata Avrei fatto anche io La stessa cosa Cercando di allontanarmi A meno che non è andato Sulla zipline Non ho serie di dubbi Non ho idea di dove sia andato Ragazzi Credo che sia fuggito Grazie a tutti Io ho ballato Non mi fa ballare Io non capirò mai perché ragazzi Cioè io devo ballare Ma non me lo fa fare Io avevo premuto Sto premendo il comando Ragazzi si bugga Io non capisco Finalmente Vabbè Ok Io però Megia Non ho Non ho Non ho Non ho Non ho fatto capire C'eroga Andar Guarda Guarda Ok, abbiamo anche dei nemici Dietro, va bene A breve quel tizio morirà e io devo per forza ballare Non so quando morirà È morto ora, ok, fammi ballare Ho un po' ballato e a me va benissimo Quanto ho ballato Siamo nove ragazzi, siamo nove Ok, ho ballato un po' Tenendo conto che le volte di prima Il gioco ha praticamente imbrogliato senza farmi ballare Credo che vada bene così, no? Questo tizio stava praticamente a morire Una terra Che brutta situazione, quanta gente ci sta Ok cavolo ragazzi Io dovrei ballare Diciamo che continuerò a ballare almeno per quanto mi sia possibile Ok Diciamo che ho ballato ragazzi, è funzionato Stava finendo molto male ma ho ballato Ok, un altro preso Va bene La mia preoccupazione è che Il nemico venisse eliminato Mentre io stavo Come cavolo si dice Dobbiamo ballare Abbiamo vinto? Non mi ero neanche accorto ragazzi Va bene Grazie a tutti